Gian Paolo per il giornale 24.it ringraziamo innanzitutto per la disponibilità del senatore Rutelli. Ecco, io volevo chiedere alla luce degli ultimi eventi, la vicenda Lusi indiscutibilmente legata a queste terre, alla Marsica, quanto questo possa influire sull'imminente campagna elettorale? Io spero che sia il pretesto, ma meglio ancora l'occasione per dare spazio alle persone brave, perbene, concrete, legate alle soluzioni del territorio, perché vede dalla vita o uno impara dalle pagine dolorose, oppure si dovrebbe piegare sotto questi eventi. No, le persone perbene, le persone oneste sollevano il capo, la loro coscienza, la loro capacità e quanto più ci sono stati persone che hanno deluso terribilmente, che hanno tradito la fiducia ricevuta, che hanno fatto degli atti così odiosi, tanto più le persone perbene trovano dentro di sé e con gli altri la forza per dire ai cittadini c'è un modo pulito di agire e noi lo testimonieremo restituendo agli italiani, sarà il primo partito politico a Margherita che lo farà, quello che hanno ricevuto e anche di più. Ed ecco quindi che se appena sarà chiusa questa vicenda vedrete che rimarrà un'esperienza dolorosissima, ma anche la coscienza che le persone pulite vanno a testa alta e risolvono problemi così gravi. Grazie, grazie a voi.